Ecco qui il regalo, qui nella libreria, piazziamo il regalo Adesso scappa in quella porta, scappa prima che tuo fratello torni Scappiamo, scappiamo, scappiamo Dilla, dilla il pianeta, dilla il pianeta, vediamo, vediamo Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì Papi E oggi, che facciamo il bello oggi Sofì? Oggi Can Blade di Siblings Torniamo a giocare a Siblings, facciamo il terzo episodio Esatto Anche perché Sofia dobbiamo ancora finire gli ultimi due livelli dei 13 che ci sono al gioco Siblings In attesa del nuovo aggiornamento così siamo già pronti Esatto, quindi scrivetici anche nei commenti se vi piace questo gioco e cosa ne pensate Ma non perdiamo tempo e iniziamo a giocare Ok, siamo sul gioco Siblings Andiamo Sofì, iniziamo, Tap to Play Come dicevamo siamo arrivati al livello 12 Ci manca il 13 per sbloccarli tutti in attesa dei nuovi Vediamo cosa ci propone adesso Lucas, il fratellino di Ron Dunque, vediamo Dunque, Ron ha promesso di giocare con te Ma ora praticamente si è rifiutato Facciamoli un bel bagno e insegnamoli la lezione Quindi, dobbiamo, praticamente saliamo sulle scale Dobbiamo fare una doccia, Sofì Sì, ma che cosa? Vediamo, dunque Ah, c'è un secchio di acqua E possiamo prenderlo Ok, allora Qua dice, prendi il secchio di acqua di fronte al bagno Dunque, qua c'è Ron, non dobbiamo disturbarlo, giusto? Entriamo in casa Apriamo La porta Perfetto E adesso Saliamo Fabio, ho visto che sta su queste scale Salvi alle scale Ok, dunque, Ron non ci dà nessun problema Vedi, Sofì, perché è ancora sulla sdraio Ho visto che sta di là Ricordiamoci Perfetto, gira, gira Di nuovo, di nuovo, di nuovo No, non è qua Il bagno? Ah, qua è il bagno? No Ah, non è nel bagno Apriamo No, non è là Non è là il bagno Non è il bagno? È là Ok Ecco qua, hai ragione, Sofì Hai qui il bagno Prendiamo il secchio Con la mano Ah, ecco, con la mano Ce l'abbiamo in mano Andiamo a svuotarlo Sì, l'abbiamo Dunque, qua dice Ora vai al balcone E svuota l'acqua su Ron Il balcone? Ma dov'è il balcone? Aspetta In linea d'aria Se non sbaglio C'era qui un balcone Ti ricordi? Abbiamo fatto un livello Sì Dunque Controlla se c'è Ron Non c'è Qua mi dice che possiamo svuotare il secchio, Sofì Ok, svuotalo Sì Una doccia d'acqua a Ron Sì Ron Zero Sofì capi Uno Anzi dodici Visto che ne ho fatto dodici livelli Ok Sofì Allora io direi Di andare avanti Questo livello era molto facile, vero? Sì Pubblicità Ce l'ho chiamo Dunque Ultimo livello Vediamo Ron Ha rubato il tuo regalo Quel furfante Piazza Il guanto Ah il guanto da pugile dentro al regalo Per insegnarli una lunga lezione Che ricorderà Sì Dunque Deve uscire il guanto e lo deve colpire Sì Sofì non puoi entrare in casa C'è Ron C'è Ron Ron Allora Vado Sofì posso entrare? Dov'è lui? Aiuto 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 Sali sopra Sali sopra Veloce 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 Ok No no dai non perdiamo tempo Dunque raccogliamo Ce l'abbiamo Ron guardate è seduto sul divano Solo che io non riesco a capire qual è il divano quello Ed è la sala No non è nella sala Dobbiamo stare molto attenti In un'altra stanza Papi sto uscendo Ok perfetto Io vado subito nella camera da letto di Ron Che è qui giusto Sofì Ci siamo Ok perfetto Ecco qui il regalo Lui nella libreria Piazziamo il regalo Adesso scappa in quella porta Scappa prima che tuo fratello torni Scappa in quella porta Scappiamo 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 Vado al piano di sopra Vado al piano di sopra Vediamo vediamo Dov'è lui? Vai qua dentro Nascondiamoci Stanno dove la camera Sofì? Sì Vediamo un po' che succede Apri il regalo caro fratellino Sì Hai visto Sofì? Sì vado Ben ti sta a rubare i regali nostri Guarda c'è l'occhio con il ghiaccio Abbiamo finito anche questo livello Quindi andiamo alla home Vediamo Sofia se si è sbloccato qualche altro livello Ma invece siamo arrivati alla fine Quindi possiamo dire di aver completato in questo terzo episodio I livelli di Ron Giusto Sofì? Sì ma facciamo il livello 13 E l'abbiamo fatto adesso Era questo Sono finito E ne sono solo due Allora mettiamo in pausa qui E quindi Sofì aspettando i nuovi livelli di Ron Ci vuole molto tempo Quindi se arriva a uno youtuber E non arriva a voi Non vi preoccupate Perché arriva a tutti Esatto Dipende anche dal dispositivo Li stiamo aspettando gli aggiornamenti Ma voi nel frattempo Scriveteci nei commenti Se volete vedere qualche altro gioco Sì Magari a che punto siete Sulla saga di Siblings Oppure Scrivete sotto nei commenti Qual è il vostro livello preferito di Ron Ma adesso è solo per il momento dei Saluti E quindi iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdere nessun video Iscriveteci sui nostri social Ovvero Instagram e TikTok Mettete like E noi ci vediamo in un prossimo video E ciao Ciao